Sì, però guarda che sta venendo in su, perché prima questa pianta non l'aveva presa. E' bene, però se non lo ferma. Non può essere così. Eh no, perché cavolo, o lo fermo subito o se becca al pino becca la chiesa. Eh, infatti. Cioè che entrano col camion da qua, quindi non entrano da lì. Eh, se becca al pino veramente. Se becca al pino becca la chiesa. Grazie. 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 Non so, io l'ho detto, mi racchino. Io l'ho detto, ho visto la gicca. Non so, io l'ho detto. Non so, io l'ho detto, io l'ho detto, io l'ho detto. Non so, io l'ho detto, io l'ho detto. E vabbè, si è fatto il peggato, mica la carina. E cazzi, l'ho detto, è veramente buono. E' una donna. pensiamo di aver individuato il piromano chi sarebbe? quel vecchietto là che adesso è là ecco lui abbiamo un chiuso di cori perché stavo vedendo la prima cosa che ho pensato abbiamo finito di cantare in questo caso noi abbiamo finito di cantare ciao io pensavo che donna avessi fatto il barbecue prima di partire ho fatto qualcosa allo stile una volta che si areava c'è un po' di non è il caso che deve partire il don che dopo deve rimandare a partire lo stesso lui parte e ci lascia qua con le con le ok la prossima volta che sento puzza di fumo guardo fuori da un patrullo ma tu devi vedere da sotto ho detto ma è perché io a un certo punto ho sentito puzza di fumo però non era pesante così poi ha detto guarda che c'è un incendio